E' il sindaco di Laterina Katia Donnini ad esprimere per prima la propria soddisfazione del fatto che la bimba di 4 anni caduta in palestra una settimana fa stia tornando a casa proprio in queste ore. Il caso ha tenuto Ponticino con il fiato sospeso. La piccola una settimana fa aveva riportato un importante trauma cranico in seguito ad una caduta mentre stava facendo ginnastica all'interno della palestra comunale. Aveva battuto la testa in una panchina di legno e metallo e successivamente ricoverata al Meyer di Firenze è stata operata per una frattura scomposta al cranio. Abbiamo fatto i nostri sopralluoghi e siamo in attesa di diventare sviluppi da parte della magistratura un lieto fine per una brutta avventura che però ancora aspetta delle risposte. La palestra è comunale ed è in gestione ad una società sportiva. Sul caso indagano i carabinieri.